guarda andrea sei fortunato io non ci posso fare niente sei fortunato perché sei ospite in questa trasmissione proprio quando abbiamo ospite un grandissimo youtuber che io allora chiamo immediatamente Tommaso Casissa ecco l'abbiamo evocato eccolo qui l'abbiamo evocato come stai Tommy ciao bene bene voi bene benissimo benissimo allora parlavo con il dottor Ranocchia no ingegnere ci sembra possibile il dottor Ranocchia ci sembra possibile uno sviluppo social della carriera di Andrea in sicuro no è già iniziato in qualche modo perché no hai qualche consiglio da dargli no tu che insomma sei su youtuber sei uno dei più influenti in questo momento come deve fare Andrea per emergere anche su questo mercato posso darti un consiglio su come potrebbe essere il primo video che fai su youtube no proprio il tuo lancio nel mondo nel mondo del web allora facciamo finta tu apri questo canale e devi caricare il primo video ok quindi devi farvi conoscere allora ti provo a dare delle delle come posso dire dei consigli base prima di tutto sorridi sempre perché la gente piace se tu sei allegro potrei fare la gente piace la gente che sorride e poi gesticola perché come vedi da come ti sto parlando è proprio una cosa che ho nell'animo giustica molto ok poi metti ben dritto ok spalle su ben dritto visto che hai il fisico mostralo faccio anch'io però Tom esatto esatto proprio un allenamento questo serve nella vita e poi ci vuole importantissima una intro cioè un proprio una frase iniziale che ti ti renda un po' più iconico allora il tuo canale come potrebbe chiamarsi il non so il frog show molto banalmente non è male anzi ranocchia farei più vezzeggiativo froggy show il froggy show capito un pochino ti piace potrebbe possiamo lanciarlo possiamo lanciarlo insieme questo format non sarebbe male ok prova a farmi la intro prova a un ciao a tutti benvenuti al froggy show e poi sorriso vai prova a farlo vediamo ciao a tutti benvenuti al froggy show sorriso smagliante perfetto io ci avrei messo più verve però un po' più verve forse un po' più la cattelan diciamo è il primo video c'è ancora tempo però se poi hai bisogno di altri consigli mi trovi qua io devo magari guarda sei magari potremmo pensare di fare un bel lancio io devo dire che ancora non ce l'ho ma quando hai detto froggy show io ho visto una luce strana negli occhi è vero anch'io questo tipo che si silluminava ho trovato il mio futuro basta calcio basta che grande idea è questa mi prendo una telecamera basta calcio bello proprio un po' youtube ce la faccio più andrea grazie mille fantastico grazie grazie a voi grazie per i consigli e in bocca al lupo per per frog life grazie speriamo che ci siano più stagioni speriamo dai speriamo speriamo la prossima solo su youtube la facciamo insieme grazie mille grazie mille grazie mille a voi ciao 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 ciao